Musica Sono usciti lasciando il gas aperto e in poco tempo l'ambiente si è saturato. Il posto è accaduto oggi, poco prima delle 14, in un alloggio al secondo piano di una palazzina situata in via Ludovico Tarizio a Favria. I vicini, allertati dall'odore, hanno visato il 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo e Ivrea. I volontari di Rivarolo sono saliti sul balcone e entrati rompendo il vetro. Chiuso il gas hanno reggiato l'ambiente. Nel frattempo sono rientrati gli abitanti dell'alloggio. Per sicurezza sul posto è intervenuta anche la Croce Bianca del Canavese, oltre al sindaco e al vicesindaco. Grazie a tutti.